Buonasera, ben ritrovati all'intervista del Punto. Questa sera Focus e riflettori accesi su un'importante esclusiva. Sono contenta che al mio tavolo abbia accettato il mio invito. L'ex sindaco di Trani, ben arrivato, a Luigi Riservato. Buonasera. Buonasera a lei e a chi ci segue da casa, grazie. Sono molto curiosa di sentirla in merito ad una questione che davvero, insomma, la vista protagonista purtroppo per 2935 giorni, ben otto anni di processo. Un processo che tra poco discuteremo, finalmente la vede assolta. E allora andiamo sulla ricostruzione e daremo parola all'ex sindaco di Trani. Assolto perché il fatto non sussiste, l'ex sindaco di Trani Luigi Riservato e l'ex vicesindaco Giuseppe Di Marzio, scagionati dalla sentenza emessa dal collegio presieduto da Giulia Pavese nell'ambito del processo per il cosiddetto sistema Trani che portò alla caduta dell'amministrazione comunale nel 2014. Assolto anche l'ex amministratore unico di Amio, Antonio Ruggero, mentre assoluzioni e prescrizioni sono arrivate per i capi di imputazione a carico dell'ex consigliere comunale, Nicola Damascelli. 14, gli imputati coinvolti nel filone che si è sviluppato tra il 2014 e il 2016. Condannato a due anni e mezzo l'ex consigliere Maurizio Musci, pene più pesanti invece per altri personaggi di spicco. Cinque anni e sei mesi per il responsabile dell'ufficio appalti, Edoardo Savoiardo, sei anni per l'ex comandante e dirigente della polizia locale Antonio Modugno e nove anni e sei mesi per l'istruttore contabile dell'ufficio ragioneria Sergio De Feudis. Condanne anche per altri ruoli di riferimento dell'area tecnica, l'ex comandante della vigilanza notturna Vincenzo Giacchetti è stato condannato a cinque anni e sette mesi, l'ex dirigente dell'area finanziaria Domenico Guidotti a un anno, l'ex segretario generale Luca Russo a un anno, l'ex dipendente della cooperativa Un Amico Pertrani, Carlo Adamiano, a quattro anni e sei mesi. Le accuse pendenti erano di illeciti in gare d'appalto con l'accusa di peculato, truffa, concussione e associazione a delinquere. Le ultime tre ritirate durante il filone riservato e di marzio ottengono così la soluzione ad oltre otto anni dai fatti contestati. Allora, avvocato riservato, lei è stato sindaco dal 2012 al 2015 e la notizia, così come l'abbiamo battuta e ripresa, è stato solto in primo grado con formula piena appunto dal tribunale di Trani nell'ambito del processo in cui è stato appunto accusato di aver fatto parte con altre sei persone, come abbiamo peraltro mostrato nella ricostruzione attentissima, di un comitato politico-affaristico che avrebbe gestito e pilotato appalti nel comune della BAT. Tornando all'inizio, dicevo, un processo durato 2935 giorni, ben otto anni, otto anni. Quello che mi ha colpito, e adesso lo racconteremo, è che la prima frase che lei ha pronunciato è stata «La verità è stata finalmente ristabilita». Sì, intanto io, non per una clausola di stile, non per una circostanza, rinnovo anche a lei, all'emittente di Antenna Sud, dei ringraziamenti per dare voce, per dare spazio a chi ha fame e sete di giustizia. È inevitabile dare atto che spesso la stampa è molto sensazionalistica quando accade un episodio, diciamo, di clamore, di arresto di un sindaco, di un amministratore, di amministratori pubblici in generale, e magari è meno sensazionalistica poi nel dare la notizia della soluzione. Io invece devo registrare, con grande piacere, ma questo lo devo registrare da cittadino che ama fortemente la nostra terra di Puglia, la nostra nazione, devo registrare che c'è stata una grande attenzione. E quindi non posso che rinnovare ancora il ringraziamento a voi per questo spazio che viene dato. E questa intervista, questo approfondimento, lo gradisco in particolar modo, perché avviene a circa un mese, più o meno, di distanza dalla lettura del dispositivo della sentenza avvenuta appunto il 2 febbraio, e quindi avviene con degli animi che si sono inevitabilmente sopiti, placati, ma rimane una grande amarezza. La grande amarezza intanto è per la città di Trani, che inevitabilmente nel corso di questi anni è tornata alla ribalta nazionale per vicende che non meritava assolutamente. E quindi questo dolore è un dolore che mi rendo conto non passerà mai, rimarrà sempre una ferita e una cicatrice aperta. Sì, ricostruzione sia dal servizio che da parte sua puntualissima. Sono stato, ho avuto il privilegio di essere sindaco della città di Trani dal 2012, sostanzialmente io direi al 2014, perché poi a fine di quell'anno ho rassegnato le dimissioni, proprio per consentire alla magistratura di svolgere a pieno il suo ruolo di accertamento della verità. E incredibilmente nel corso di questi soli due anni la procura della Repubblica dell'epoca mi contestava una serie di addebiti giudiziari, per la precisione 5. Il capo di imputazione ovviamente più odioso era quello dell'associazione delinquere, era quello per il quale probabilmente fu adottata in capo sottoscritto una misura cautelare. E però poi pian piano, pian piano, nel corso di questi lunghi 8 anni, 3.000 giorni circa, noi abbiamo assistito a un ribaltamento completo dei capi di imputazione. Per il primo, cioè quello dell'associazione a delinquere, per il primo addirittura è stato lo stesso pubblico ministero, originariamente titolare del fascicolo, che concluse le indagini preliminari a lui stesso, devo dire con correttezza, questo va riconosciuto, detto al giudice delle indagini preliminari, che solo in capo sottoscritto il capo dell'associazione a delinquere andava archiviato. Quindi, come dire, forse, probabilmente, essendo il capo di imputazione più odioso, il sottoscritto non doveva neanche essere raggiunto da una misura cautelare. Circostanza che sposta di non poco i termini della vicenda, perché lei, come comprende, con una misura cautelare, chiaramente io, in un certo senso, sono stato costretto a dover rassegnare le dimissioni. Ci sta che nel percorso politico-amministrativo di un amministratore, sia esso sindaco, consigliere regionale, presidente della regione, possa esserci un avviso di garanzia, ma una misura cautelare e, ovviamente, un episodio molto più grave. Avvocato riservato, mi ha molto colpito le parole che lei ha detto, oltre a quello di aver ristabilito la verità, dice, questa vittoria, poco più che un mese fa, la dedico a mio padre, la dedico a mia moglie, a mia figlia, che hanno sofferto in silenzio, perché poi, diciamolo, io spesso me ne occupo delle mie trasmissioni, quando si mette all'agonia un sindaco, ecco, ridare la dignità ad una persona, non è semplice quando le dice, quando ti strigliano quei titoli di giornale, poi dopo otto anni hai ragione, le persone che hanno sofferto con me, Beh, insomma, lei tocca veramente corde ancora molto dolenti del mio cuore. Sì, io, a distanza di un mese, ma forse per sempre, rinnoverò sempre questo pensiero di gratitudine a mio padre, che poi nell'anno successivo è andato via, inevitabilmente è andato via, non vedendo ristabilita la verità. In cuor suo non aveva mai temuto, e anche nei giorni più duri, nei quali ho dovuto affrontare 45 giorni di detenzione domiciliare, mi aveva sempre fatto sentire la sua vicinanza, il suo calore, la sua saggezza, perché chiaramente era già una persona avanti con gli anni, e quindi aveva quell'esperienza e quella maturità che un genitore dispensa sempre ad un figlio. Però inevitabilmente poi, da lì a poco, purtroppo lui è andato via, e quindi rimane forte questo dolore. Però rimane anche la consapevolezza che da subito, leggendo le carte, discutendo, ascoltando anche le mie ragioni, si era reso conto che purtroppo ero finito in un tritacarne, nel quale, guardi, a distanza appunto di tempo, di otto anni dall'evento, ma a distanza di un mese, io sono molto addolorato, perché poi ho visto contestati dei capi di imputazione che erano quasi di creazione giurisprudenziale, cioè non erano dei capi di imputazione che risiedono ben specificati nel codice di procedura penale. Ad esempio, io rispondo, ho del codice penale, io rispondevo di concussione politica, tentata concussione politica, ma è un istituto per il quale forse non sono ben chiari neanche i paletti, cioè un sindaco che avrebbe isolato un consigliere comunale di maggioranza che si era dichiarato poi non più tale e quindi inevitabilmente non facendo più parte della compagine, diciamo, non votava e quindi veniva isolato. Ma di questi casi probabilmente la vita politica amministrativa non del nostro paese ma della nostra nazione ne presenta quotidianamente perché la politica ha in un certo senso le sue regole, magari anche non scritte. Quindi secondo me oggi ecco, la magistratura deve stare ben attenta a tenere distinti i profili. Quindi c'erano delle situazioni fumose che avevano portato poi a questo castello accusatorio veramente terribile un film dell'orrore però in questi momenti io ho avuto dei punti di riferimento che sono stati la mia famiglia d'origine la famiglia da me costituita loro non hanno mai temuto un attimo della mia innocenza devo anche dirle che sinceramente dopo essere stato anche lontano per un periodo come è giusto che sia non ho mai sentito l'ostracismo della mia comunità nei miei confronti tutti poi più o meno si erano fatti un'idea su questo caso però ovviamente permane anche diciamo il dolore con la rivendicazione della dignità con la quale io ho affrontato questi anni e questo deve consentirmi deve consentirmi di dirlo perché io nel corso di questi otto anni come ho detto ironicamente mi sono ritirato in una sorta di autoesilio piuttosto rassegnato e malinconico nel quale ho avuto un atteggiamento di resilienza ho trasformato il dolore in amore ho trasformato l'angoscia in speranza in speranza di poter vedere nel tunnel di dolore nel quale mi trovavo una luce e pian piano pian piano l'ho vista perché sempre per proseguire nel corso di quella ricostruzione molto puntualmente svolta da lei e dal collega che ci ha dato il contributo del servizio televisivo dell'epoca dopo solo due anni oltre a esserci stata l'archiviazione dell'associazione delinquere prima richiesta dal pubblico ministero dopo solo due anni un altro momento cioè quello dell'udienza preliminare nel quale io finisco davanti al giudice dell'udienza preliminare sono tecnicismi ma semplicissimi da capire anche per chi ci segue da casa la giudice dell'udienza preliminare mi assolve per altri due capi di imputazione e però mi manda a dibattimento per residui due capi di imputazione per i quali mi piace in questa circostanza ricordare nel corso di questi otto anni era maturata la prescrizione un soggetto non può essere imputabile a vita ci deve essere un periodo dentro il quale poi lo Stato deve io ho rinunciato alla prescrizione ho chiesto al collegio in un certo senso di essere giudicato in nome del popolo italiano ovviamente direi in nome del popolo tranese che mi aveva fortemente voluto sindaco e poi il 2 febbraio è intervenuta questa soluzione piena perché il fatto non sussiste beh tutto questo antepone è una grande determinazione una grande voglia di giustizia Trani peraltro è una città importante una delle città più importanti della BAT tra l'altro è sede di un importante tribunale dove la vita come dire della magistratura ha un'attività giornaliera frequente nell'ordinario perché le dico questo lei da questa vicenda pensi che qualcuno abbia voluto fortemente farla fuori ma io come dire politicamente era scorretto per qualche per una parte di quella politica che non la voleva quella lobby che poi no ci sono stati dei coni d'ombra che c'erano all'epoca che permangono fortemente ora e che probabilmente anche alla luce dei contributi che tanti suoi colleghi di carta stampata stanno anche fornendo io ritengo che siano assolutamente confermati ecco è importante sempre arriveri a dire nel principio teorizzato agli albori dell'illuminismo dal Montesquieu è sempre importante conservare una tripartizione dei poteri dello Stato legislativo esecutivo e giudiziario che dovrebbero teoricamente tutti e tre camminare per vie parallele senza incrociarsi è giusto che il potere giudiziario faccia degli accertamenti in capo agli altri due quando ci sono dei problemi però cercare di dare seguito e credito a degli argomenti fortemente politici quasi da gossip è un rischio che secondo me la magistratura deve evitare è scontato che quando un sindaco prende le distanze da un consigliere comunale in capo al quale incomincia a vedere che c'è qualcosa che non va questo consigliere comunale possa dire tutto quello che pensa contro di lui ma è altrettanto scontato che è una magistratura attenta e mi consenta anche di dirle anche una polizia giudiziaria perché guardi noi incredibilmente abbiamo visto delegata all'epoca dei fatti dalla procura della Repubblica di Trani sull'inchiesta nostra la digos della questura di Bari ora era una delega che ci inquietava e a distanza di anni continua ad inquietarci perché questa specialità importantissima della Polizia di Stato è una specialità che io da cittadino ma anche da dettore lavori quale avvocato di un ente pubblico quale ex ufficiale della Guardia di Finanza perché io ho avuto il privilegio di indossare l'uniforme del corpo e per me rimane sempre un grande privilegio sia pure per assolvere agli obblighi di leva e io so che la digos si è sempre occupata di reati politici di problemi di ordine pubblico di terrorismo internazionale ma coinvolgere questa specialità della gloriosa Polizia di Stato in un'indagine di pubblica amministrazione in fondo anche molto tecnica e c'era sembrato assurdo quindi anche la Polizia giudiziaria ha un compito nel vagliare bene delle deposizioni e di far sì che le stesse poi non possano essere assurde a livello di prova che addirittura poi porta a una misura cautelare qui parliamo di vite delle persone qui parliamo di insulti alla democrazia non è possibile poi sa qual è il rischio che si corre che devo dire da voi ormai non viene sottovalutato e in particolar modo anche da lei il rischio è che uno pensa sempre che queste situazioni possano accadere a qualcun altro invece no poi quasi come una nemesi riguardano te stesso perché la cosiddetta mala giustizia non è solo mala giustizia penale ma può essere mala giustizia civile può essere mala giustizia amministrativa quando tu ti rivolgi dal giudice civile per un problema legato a un'infortunistica stradale legato a una bega condominiale e così potrei proseguire o quando vai al TAR adisci il tribunale amministrativo per un problema anche in quella sede e capisci che c'è qualcosa che non va e allora noi dobbiamo ristabilire veramente le regole io penso che questo governo ha veramente un grande che è dopo tanti anni il primo governo finalmente eletto con forza dal popolo e che si trova oggi a dover affrontare tante emergenze sia chiaro ma quella della giustizia è una vera emergenza una riforma sulla giustizia si tenta da 30 anni bisogna diologizia e non si è mai realizzato ecco da Palamara in poi il suo caso e molti altri noi siamo tutti garantisti crediamo molto nella magistratura crediamo chi fa un mestiere come dire importante e delicato però non è un mestiere infallibile la sua vicenda dimostra che si può sbagliare senta io d'intesa con i miei avvocati Malcangi e Alvisi ho tenuto sempre a mente una frase che è scritta nel tribunale di Firenze che è scolpita lì e chiunque lo ha frequentato per motivi professionali ma arriverei a dire anche per motivi turistici per quanto è bella Firenze e diciamo mi ha colpito ed è stata per cercare giustizia bisogna esserle fedeli perché essa la giustizia come tutte le divinità si manifesta solo a chi ci crede e io ci ho sempre creduto proprio come ha detto lei nel passaggio anche da uomo di fede e la fede mi ha aiutato molto nel corso di questi otto anni quindi ci ho sempre creduto ovviamente io poi dico tutti coloro che operano nel settore della giustizia devono metterci per far sì di essere credibili e purtroppo nella nostra città così bella con un tribunale storico che in passato addirittura è stato sede di corte d'appello delle Puglie ci sono stati degli episodi che delegittimano non soltanto mi perdoni credibili ma non devono loro stessi poi essere corrotti con quella parte della lobby politica contraria perché se se ne fa solo una questione politica accadono episodi di questo tipo che poi diventano ignobili agli occhi della comunità e proprio così che la giustizia deve fare la giustizia e la giustizia deve fare la giustizia assolutamente e deve essere esonerata dalla questione partitica e politica e io infatti spero fortemente che il nostro Presidente della Repubblica acclamato per una seconda volta in questo ruolo non solo dal Parlamento riunito in seduta comune che lo ha rieletto per la seconda volta era venuto anche con Napolitano ma questa volta è venuto con numeri e con un consenso ancora crescente e anche percepibile nella nazione io spero fortemente che il nostro Presidente della Repubblica che rimane un faro non solo di rappresentanza dell'unità nazionale possa con pienezza svolgere anche il ruolo che gli è affidato attenzione dalla Costituzione di Presidente anche del CSM perché oggi una riforma dell'organo di autogoverno della magistratura però una riforma poi sostanziale concreta che possa portare a dire qui per chi ci segue da casa deve essere chiaro un argomento sbaglia Manila Gorio nella sua attività di giornalista Manila Gorio va incontro incontro delle responsabilità assolutamente delle importanti sanzioni va incontro sbaglia un operatore un cameraman di Antena Sud risponde e così accade in tutte le altre professioni bene io spero fortemente che questi paletti di chiarezza con tutte le garanzie di autonomia di un ruolo così importante come quello del magistrato ci possano essere anche lì perché diversamente allora le immagini signora Manila io accederò ad una dove la sentenza passasse poi in giudicato perché oggi sono stati letti è stato letto solo il dispositivo entro 90 giorni verranno depositate le moderazioni teoricamente la procura della Repubblica di Trani potrebbe avere 45 giorni per poter promuovere appello io ho motivo di ritenere che non lo farà perché la procura della Repubblica nella persona del sostituto procuratore che era subentrato a quello originariamente titolare del fascicolo con grande devo dire correttezza questo va riconosciuto aveva chiesto in capo sottoscritto e non solo la soluzione chiaramente la procura l'aveva chiesta per insufficienza di prove ma è un gioco delle parti è un ruolo è sempre l'ufficio della pubblica accusa il collegio me l'ha data piena perché il fatto non sussiste una volta che la sentenza diventerà definitiva io accedo io come anche gli altri accedo automaticamente a una riparazione per ingiusta detenzione ma la riparazione per ingiusta detenzione parliamo di cifre che come lei può immaginare io non voglio neanche in questa circostanza ripetere non è una questione economica non è una questione economica è la dignità che è stata tolta per otto anni della sua vita e poi oltretutto se lei mi permette proprio ricollegandomi a quello che dicevo all'inizio della trasmissione io ritengo proprio senza voler essere autoreferenziale che la fascia tricolore mi è stata strappata da addosso ha ragione torniamo su questo argomento in esclusiva questa sera al punto l'intervista al mio tavolo l'ex sindaco di Trani con una verità tanto grande che sono contenta abbia fidato a me questa sera non cambiate canale perché rimarrà ancora con noi nella seconda parte l'ex sindaco ben ritrovati nella seconda parte del punto l'intervista al mio tavolo questa sera sto attenzionando un tema davvero molto importante peraltro delicatissimo perché giustizia è stata fatta la verità è stata ristabilita queste sono state le parole pronunciate proprio dopo aver letto il dispositivo che assolve completamente dai fatti l'ex sindaco di Trani l'avvocato Luigi Riservato che ancora ringrazio per essere qui con me in diretta lo sa io insomma sono una persona che va controcorrente quindi sono abituata a raccontare la verità voi anche per una deformazione personale ma sono alla conduzione di questi programmi perché credo molto veramente nella giustizia sono garantista però abbiamo detto la giustizia qualche volta può sbagliare le dico questo qualche mese fa nel Salento il presidente della Puglia Michele Emiliano era intervenuto proprio in un meeting sulla legalità e da ex magistrato qual era ha detto attenzione attenzione perché la Puglia indossa troppe maglie nere per infiltrazioni nei comuni soprattutto tante sono come dire i castelli di sabbia che si sono montati su molti sindaci ho seguito peraltro sono davvero contenta l'ex sindaco Massimiliano Lanzillotti che ho seguito tutta la vicenda ha affidato a me proprio durante il processo la sua verità e sono contenta che alle prossime amministrative Lanzillotti è stato assolto e si ricandida sulle parole del presidente Michele Emiliano anche se siete lontani politicamente ma vicini nella causa mi ha molto colpito le sue parole quando dice mi hanno strappato via la fascia tricolore si ricandiderebbe? sul punto ritornerò intanto devo qui testimoniare che il presidente Emiliano persino quando il sostituto procuratore della Repubblica cioè la procura aveva chiesto la mia soluzione mi ha telefonato ripetutamente mi ha scritto dei messaggi di solidarietà e di vicinanza e proprio come lei diceva e questi li ho graditi molto perché viene da persona politicamente posta in una coalizione diversa rispetto a quella mia che era di centro-destra però guardi io a distanza di 8 anni 9 anni ormai contrapposizione politica incomincio a non vederla più queste sono vicende così dolorose di fronte alle quali veramente ci vuole una solidarietà totale della politica trasversale che metta da parte poi steccati ideologici quindi questo va riconosciuto il presidente della giunta regionale mi ha manifestato la solidarietà e a me ha fatto molto piacere in quanto tra l'altro proveniente da un ex magistrato e quindi ho da un magistrato in aspettativa e quindi approfitto di questa circostanza per quasi ringraziarlo pubblicamente stesso trattamento non ho avuto dal presidente dell'Anci che è il sindaco dei sindaci e che guarda caso è pugliese non l'ho avuto paradossalmente dal sindaco della città di Trani che io ritengo attuale sindaco che ritengo così anche istituzionalmente perché poi personalmente ci possono essere dei sentimenti di simpatia di antipatia rientriamo nelle umane cose però istituzionalmente io ritengo che un passaggio comunque andava fatto e ciò non è avvenuto però poi diciamo ognuno risponde delle sue azioni io non so se tra due anni quando scade l'attuale seconda amministrazione dovessi ridare la mia disponibilità l'amore per la città rimane perché come dicevamo a microfoni spenti prima che iniziasse la trasmissione è una città tanto bella nei confronti alla quale io dico chi ci vive chi c'è cresciuto ha un debito di riconoscenza che permane in eterno dover cercare di fare qualcosa per una città così bella capace di regalare dei momenti di serenità anche con una sola passeggiata io dico che Trani è come Roma ovviamente più piccola tu puoi rientrare da giornate frenetiche trascorse a Bari trascorse a Napoli per motivi di lavoro e rientri in una città così bella ed è sufficiente una passeggiata sul porto per riuscire a ritrovare una serenità e una calma interiore quella serenità e quella calma interiore che la città di Trani anche con la simpatia della sua gente mi ha dato anche in giorni bui della mia vita quindi un debito di riconoscenza nei confronti della città ce l'ho sempre io però approfittando della sua cortesia e anche del suo acume nell'approfondimento politico mi sento di offrire a lei per uno spunto giornalistico che magari potrà anche approfondire più in là ma anche a chi ci segue da casa comunque io ritengo che questo vulnus nella democrazia sia stato fortissimo perché le elezioni comunali tranesi che sono seguite al nostro evento inevitabilmente nel maggio del 2015 hanno portato alla vittoria di una coalizione politica opposta rispetto a quella di centrodestra che a Trani non vinceva da non so quanto tempo sembra quasi tra virgolette aver approfittato di questa circostanza sfavorevole e quindi io oggi con molta serenità e ritengo anche con molto equilibrio ritengo che quelle elezioni comunali del 2015 e poi guarda caso ripetute nel 2020 più bonus covid perché c'è stato un bonus covid che ha allungato un po' il periodo sono state delle elezioni formalmente ineccepibili perché così è però viziate da un peccato originale che rimane sempre lì e sul quale secondo me tutti dovrebbero accendere un focus di riflessione perché probabilmente l'attuale sindaco con l'attuale compagine non avrebbero vinto mai se non ci fosse stato un episodio così di clamore poi ho sentito dire anche di recente che il sottoscritto in soli due anni ma un'amministrazione fisiologicamente deve durare cinque anni per dare il meglio di sé io in due anni avevo iniziato un'opera di risistemazione del comune che ha dato i frutti paradossalmente forse a chi non lo meritava cioè a chi è venuto dopo però oggi non voglio ancora scendere in beghe o polemiche politiche va bene diciamo che tra due anni capiremo che cosa rimane di questa vicenda l'abbiamo detto insomma un processo così lungo otto anni insomma anche quella parte della comunicazione di chi fa il mio mestiere come ha detto lei all'inizio no abbiamo visto tanti titoli però meno quando adesso insomma la verità è stata ristabilita perché bisogna fare appello a chi fa il mio mestiere bisogna raccontare in tutti i modi le questioni e non condannare prima ancora che finisca il processo e si legga poi la sentenza cosa rimane di tutta questa storia inevitabilmente rimane tanta tanta amarezza questo scontato però rimane anche la consapevolezza come proprio dicevo prima che nelle istituzioni bisogna credere anche quando le stesse in un momento ti chiedono un accertamento in capo alla tua persona ho più volte detto che nel mio io sono un self made man della politica non sono stato un figlio d'arte con orgoglio e con onore dico che mio padre è stato il ragioniere di una ditta di Marmi perché Trani come lei sa ha una storia nel settore lapidio ahimè via 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 persa ma in passato la pietra le cave di Trani erano conosciute in tutto il mondo io sentivo parlare di Singapore da bambino perché appunto ma l'ultimo suo padre la portava proprio sui cantieri dei Marmi a vedere proprio il marmo mi inculcava fortemente proprio l'amore anche per questa ricchezza della città perché quando si viene a Trani si dice città della pietra perché la pietra il marmo di Trani è appunto famoso in tutto il mondo mia madre ha insegnato materie giuridiche economiche per 30 anni e probabilmente mi ha inculcato un po' l'amore per il diritto e un po' inevitabilmente il diritto che però mi perdoni le ha dato ragione alla fine il diritto che mi ha dato ragione assolutamente è proprio così perché se lei non fosse stato in grado di conoscere la materia quanti ecco diamo questo messaggio magari vengono puniti da quella giustizia che sbaglia certo proprio così e però proprio quello volevo dire essere uomo delle istituzioni perché sono stato giovane consigliere comunale eletto per la prima volta nel 2003 poi sono stato eletto nel 2007 rinnovato nella carica di consigliere comunale addirittura come consigliere più suffragato della città nel partito dell'Udc che all'epoca della Casa della Libertà lei lo ricorderà bene assolutamente era il partito come dire più piccolo rispetto all'allenanza nazionale e alla Forza Italia che chiaramente nella Casa della Libertà erano i capisaldi del centro-destra e io sono stato il più suffragato quasi con mille preferenze individuali quando non c'era il voto con l'accoppiamento alla cosiddetta quota rosa quando c'era la preferenza individuale questo va ricordato poi ho avuto il privilegio di servire le istituzioni da consigliere provinciale della neonata provincia Barletta Andrea Trani in passato le ho raccontato ho indossato un uniforme allora essere uomo delle istituzioni e proclamarsi tale poi non è che quando le stesse in un momento ti chiedono un accertamento o si voltano o si voltano conto allora tu a quel punto devi come dire generalizzare io ho continuato ad avere fede appunto come dicevo a proposito della frase scritta nel tribunale di Firenze nella stessa e la stessa sia pure con il tempo mi ha portato a un risultato che oggi ritengo così è inevitabile che però poi quando lei mi chiede che cosa permane permane un sentimento forte di amarezza anche per come poi le cose sono andate e avvocato riservato siccome insomma come sa questo è uno spazio un po' più ridotto quello del dell'intervista del punto ma io ho anche la prima serata che dura peraltro più di tre ore e mezza il venerdì sera io la inviterò che io seguo sempre con attenzione sono molto contenta io la inviterò anche in prima serata perché io credo che questo caso debba essere messo anche in contraposizione con quella parte politica esatto e che deve deve capire perché bisogna fare approfondimento perché poi le cose come dire rimangono soltanto come dire no in maniera trasversale lasciate lì dobbiamo continuare a fare chiarezza che credo che questo le sia riconosciuto grazie per essere stato con me questa sera io la inviterò ancora lo ringrazio l'ex sindaco di Trani nonché l'avvocato Luigi Riservato per aver affidato la sua verità a questa sera in esclusiva ora io vado in pubblicità grazie ancora devo restituire la Ligia il tempo a disposizione è finito e ovviamente noi ci rivediamo domani sera buona continuazione con i programmi di Antena Sud qui ci rivediamo